eccomi 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 tra un casino e l'altro qua sopra ecco allora stasera guarantega come si dice a genova stasera hablo di una terza tipologia di sogni torno sull'argomento sogni perché perché io nei miei vari video ho spiegato sempre e solo la differenza tra il sogno psicologico creato dalla nostra stessa mente che riordina le informazioni e i pensieri della giornata e il sogno lucido che invece è un sogno dove veniamo trasportati in astrale nella dimensione onirica per entrare in contatto con entità o con le nostre vite passate quindi le nostre regressive i sogni regressivi in realtà esiste una terza tipologia di sogno che è come si potrebbe definire è un sogno indotto indotto dalla prima dimensione per questo lo spiego ora a quasi 600 video che ho fatto perché man mano che vado avanti con le spiegazioni per chi mi segue perlomeno posso permettermi di aggiungere qualche particolare un po più preciso e un po più mirato ma se prima non buttavo le basi più semplici per comprendere il tutto non potevo è come imparare la matematica non sapere le tabelline ma voler fare un'equazione se non sai le tabelline l'equazione non ti riesce il succo è sempre quello si deve capire comprendere e ragionare passo passo questo tipo di sogno indotto dalla prima dimensione perché dalla prima dimensione dimensione nel mio video dove parlavo delle dimensioni materiali e delle dimensioni mentali e nel quale descrivo le dimensioni verticali quindi la prima dimensione la seconda dimensione la terza la quarta la quinta la sesta e poi vi dicevo che dalla settima in poi narra leggenda che esistano ma io non ne so nulla e quindi non ve ne posso parlare io arrivo a malapena alla sesta ma le certezze le ho fino alla quinta e di quelle vi ho parlato e in quel video spiegavo appunto c'ho un gianni gigantesco un brufolo wow non ci le avevo 15 anni mi vengono ora vabbè a parte i miei corni la prima dimensione spiegavo è quella interiore al nostro corpo stesso è il micro universo all'interno del nostro micro universo ci sono gli abitanti esistenti della prima dimensione che potremmo definirli micro entità micro entità di collaborazione con il nostro sistema spirituale per farvela breve il corpo materiale ha cellule mitocondri dna rna batteri siamo pieni di batteri soltanto il nostro intestino funziona grazie alla flora batterica ecco il microcosmo della prima dimensione è un po' paragonabile ai nostri batteri interni ai nostri mitocondri alle nostre cellule per l'anima una sorta di cellule e esseri micro organismi viventi animici a una sola dimensione che per una mente umana materiale è inimmaginabile ma c'è il sogno indotto dalla prima dimensione è un sogno che ci manda appunto la nostra interna prima dimensione quando il nostro corpo materiale ha delle problematiche di salute nostro non di altri se ci arrivano le problematiche di salute degli altri in sogno in visione e a intuito quello che sia sono altre cose può essere dalla veggenza al nostro suggeritore a qualche guida che è preposta alle malattie come c'ho io il demone per esempio e quindi le riesco a captare può essere semplicemente semplicemente un defunto che vuole che in qualche modo la persona malata venga avvisata mille mila possibilità diverse quindi non ha senso non sto parlando di quello io parlo di sogni che hanno al loro interno dei simbolismi arcaici che riportano a determinate problematiche del corpo fisico perché ne parlo perché mi è venuto in mente questo argomento leggendo un utente su uno dei tanti gruppi dove sono social e via dicendo che raccontava di un suo sogno nel quale appunto sognava di essere di avere una determinata malattia di essere operato e da questa operazione usciva fuori una forma che ricordava una mela per di più con un bastone poi piantato nel suo interno e io da lì ho suggerito a questo utente ma così nei commenti giusto per perché è stato l'input che mi è venuto appena ho letto quel sogno riconoscendolo come un sogno appunto indotto gli ho detto forse forse è meglio che fai due controlli alla gola gola tiroide e trachea tutta la parte qua perché la mela come simbologia arcaica è proprio il pomo d'adamo di solito la mela è questa zona qua se in più ci colleghiamo anche il fatto che dopo ci ha visto un bastone viene in mente la colonna vertebrale e quindi ho il collo una cosa lunga con la mela questo era l'esempio che tra l'altro mi ha fatto pensare di parlare di questo argomento le simbologie arcaiche sono tantissime bisogna appunto conoscerle in generale normalmente quando si tratta appunto di la mela è la gola oppure le noci normalmente sono il cervello ma per esempio i pesci sono la memoria il serpente è l'apparato riproduttivo maschile proprio come simbologia ancestrale e arcaica la pesca è l'apparato femminile poiché adesso ricordarmeli tutti il pane di solito è la pelle la carne è la pelle il rivestimento putaneo l'epidermide o ancora il cocco è la cute della testa e i capelli la parte diciamo esteriore della testa le carote simboleggiano gli occhi la vista il limone di solito prende l'apparato respiratorio alto quindi naso e entrata dell'aria mentre invece i polmoni solitamente hanno come simbologia sempre a livello di immagine o le pigne oppure a volte le foglie larghe tipo quelle dell'insalata le foglie larghe della lattuga l'insalata classica i fagioli sono simbologia dei reni e dell'apparato urinario anche l'anguria simboleggia l'apparato urinario però parte più della parte della vescica le corde sognare delle corde solitamente rappresentano l'intestino e la parte finale dell'apparato digerente gli agnelli le pecore e gli agnelli sia vivi e sia a pezzi di agnello a bistecca rappresentano il fegato solitamente i vermi rappresentano il pancreas e la cistefellia sognare per esempio non è solo roba da mangiare anche oggettistica anche determinate pietre per esempio l'ametista simboleggia la parte centrale della mente quindi terzo occhio di nuovo memoria meningi tutta questa fascia davanti oppure ancora adesso guardo le pietre ecco qua per ricordarmi le cose la pierite la pierite sono le ossa le articolazioni quindi cartillagini artrosi reumatismi artrite e quant'altro le avventurine di nuovo possono significare la vista e anche le infezioni di tipo virale o di tipo batterico possono suggerire la oulite la oulite solitamente sono problemi legati allo stress e all'ansia io parlo ovviamente dei problemi e della loro simbologia arcaica che altri oggetti il filo sognare dei rocchetti di filo può essere il sistema linfatico può essere anche il primo strato sempre di epidermide ma a livello di bulbi peliferi quindi capelli di nuovo peli sopracciglia e via dicendo sognare adesso sto guardando gli oggetti in giro per fare un'idea il legno il legno di solito i pezzi di legno sognare pezzi di legno in questo tipo di sogno indotto può significare problemi allo scheletro in generale e soprattutto alla colonna vertebrale alla schiena e alle vertebre cose di ceramica dal sognare una coppa del cesso al sognare una tazza di caffè una tazza di cappuccino un piatto qualsiasi cosa sia in ceramica può essere sinanimo di problemi alla dentatura e via dicendo poi le simbologie arcaiche sono tantissime quindi pensare di ricordarsele e studiarsele tutte è impossibile ci si arriva per intuito ci si arriva per folklore ci si arriva perché nel momento in cui fai quel determinato sogno e lo riconosci come tale puoi cercarti il significato ma come fai a riconoscerlo allora abbiamo detto che il sogno psicologico è un sogno nel quale normalmente il riordino della memoria fa vedere cose che sono più o meno collegate ai pensieri avuti durante la giornata pensieri anche microscopici io adesso sto pensando che mi accendo una missie smoke e mentre penso di accendermela involontariamente penso all'accendino e alla fiamma se stanotte adesso vado a dormire e mi sogno un accendino mi sogno un incendio mi sogno qualcosa è collegato al fatto che stavo pensando intensamente ora mi accendo la sigaretta oppure ora accendo la stufa e comunque quel tipo di sogno lì lo vedo come un film quindi delle scene senza senso oggetti cose che non hanno un senso un filo logico e che io vedo a random come se stessi guardando una reclama in tv quello è un sogno veramente psicologico sogno lucido di solito è un contatto con un'entità ma può essere anche un sogno regressivo in ogni caso so per certo che è un sogno quindi io dentro al sogno so che sto sognando e posso decidere io cosa fare cosa guardare dove andare dove non andare non è una cosa che gira a random come un film che non posso fare niente posso solo stare lì a guardarlo prendo le mie decisioni quello è il sogno lucido il sogno indotto che è un sogno mandato appunto dalla nostra interna prima dimensione al fine di avvertirci che c'è qualche scombinamento nell'universo interiore del nostro corpo del nostro fisico della nostra salute di solito i fattori che bisogna valutare per poi andare a interessarsi di capire la simbologia sono sempre legati a una qualche malattia detta in modo chiaro nel sogno che poi non è la malattia che avete per esempio io vado a dormire e sogno che mi ammalo di peste nera corro all'ospedale e incontro un dottore nell'ospedale che mi dice per guarire dalla peste nera devi mangiare 15 noci al giorno ecco un sogno di questo genere ovviamente non mi sta dicendo che ho la peste nera il fatto che io sogno la peste nera è dato dal fatto che so che la peste nera è una malattia grave e quindi so che sto sognando un qualcosa che riguarda una malattia come nel caso di quell'utente che aveva sognato all'inizio che era operato per un tumore perché sa che è una malattia grave non perché ce l'abbia poi mi continua a dire che devo seguire un iter medico quindi incontro il medico e infine mi dice per quale motivazione le noci quindi io devo controllare la mia fascia celebrale oppure sono su una nave sto facendo un altro esempio per far comprendere meglio perché se li racconto come se fossero sogni avvenuti capite meglio il senso sto sognando di essere su una nave e c'ho il mozzo di turno che mi urla cazza la randa e io non so manco cosa sia la randa ma l'avevo visto in Fantozzi quando gli diceva cazza la randa e mi sono ricordata sto pezzo e io corro a prendere la corda per legare al molo la barca con questa corda mi taglio e nel sogno dico porca miseria mi sono tagliata devo correre in infermeria a farmi medicare ecco questo è un altro sogno indotto mi sono fatta male quindi ho una malattia ho un problema di salute perché mi sono fatta male con cosa con la corda che interessa l'apparato intestinale devo andare a farmi medicare devo andare da un medico a volte sono molto più palesi questi sogni a volte sono più latenti e quindi bisogna proprio stare attenti ai particolari ma diciamo che le due basi sono sempre che io sto male fisicamente per qualche motivo l'oggetto in sé che mi dice dove sto male e la spinta a farmi controllare in quel posto se ci sono nel sogno questi tre elementi può essere un sogno indotto dalla prima dimensione che cos'è è un aiuto spirituale anche questo fa parte del paranormale è un aiuto arcaico che l'essere vivo pensante ha a disposizione per in qualche modo salvaguardare al meglio e il prima possibile la propria salute fisica è difficile pensare che un discorso così materiale come la salute fisica possa essere legata al paranormale ma invece noi abbiamo tutte le capacità interiori interne per poterci analizzare e tenere sotto controllo noi per noi stessi per ognuno per sé abbiamo tutto tutto ovvio che poi dobbiamo seguire però ciò che il nostro corpo le nostre dimensioni interiori i nostri suggeritori i nostri angeli i nostri demoni le nostre guide in generale ci spingono a fare premessa sulla premessa della premessa passando per una premessa questo non salva la vita a nessuno il concetto di salvare la vita è un concetto meramente umano perché i vivi hanno paura di morire ma a livello di vibrazione cosmica a livello di interno di dimensionalità di oltre di guide di defunti di tutto ciò che ruota intorno al cosmo e alla spiritualità piena morire non è una cosa da cui bisogna essere salvati perché non è un rischio ammalarsi è un rischio morire no quindi il tuo corpo e il tuo microcosmo interiore la tua prima dimensione interiore ti consiglierà solo ed esclusivamente come mantenere il tuo corpo a un livello ottimale senza problematiche che ti possano creare problemi a livello di dolore e a livello di handicap in qualche modo fisico ma non ti diranno mai come salvarti perché stai per morire cioè un sogno che ti arriva e tu hai una malattia mortale non ti arriva perché tu ti devi salvare da quella malattia se tu devi morire di quella malattia cioè devi morire se ti salvi è perché non devi morire questo non serve per salvarti dalla morte ma se io ho una malattia terminale e non ascoltando i consigli interiori che mi arrivano muoio tra tre mesi soffrendo come una bestia se io li seguo e faccio dei controlli faccio delle terapie diverse faccio quello che mi hanno consigliato di fare dal mio microcosmo interiore posso morire lo stesso tra tre mesi cambia assolutamente niente ma magari non ho dolori non soffro me ne vado via dormendo per una notte a zecchio saluto bracci saluto ma sorrita e c'è una bella differenza per cui questo discorso qua non è una salvezza di vita è una salvezza della qualità della vita a prescindere da quanto tempo di vita tu abbia tu puoi avere 120 anni di vita puoi avere tre anni di vita puoi avere 20 anni puoi averne 30 puoi averne 50 sei matusalemme matusalemme per la leggenda biblica ne aveva 900 va bene tutto ma tu il giorno che devi morire ha già morì non te la puoi scansare però ripeto un conto è morire tranquilli pacifici nel proprio letto facendo la nanna senza dolori senza crisi o perlomeno con minor dolore possibile e un conto è morire lo stesso giorno alla stessa ora dello stesso anno dello stesso mese però dopo sei mesi di dolori atroci sbagli di terapie errori medici e quant'altro la differenza sostanziale è quella la qualità della vita che stai facendo non la quantità questo è il discorso per quanto riguarda questa terza tipologia di sogni che vengono definiti in occultismo in spiritismo e anche in spiritualità come sogni indotti dalla prima dimensione io spero anche in questo caso visto che adesso sto cominciando ad addentrarmi in particolari un po' più concretizzati di essere riuscita come al solito a spiegarmi al meglio se per qualche disparato motivo non sono riuscita a farmi comprendere fatemi dei commenti chiedetemi domande e se posso vi rispondo per iscritto se poi la risposta dovesse essere troppo lunga come al solito farò un ulteriore video di aggiornamento sulla questione per il resto come al solito qua sotto tutti i link dei vari social dove mi trovate in giro a zonzo a farmi gli affari degli altri e un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mille librerie che tengono in venite i miei libri tra l'altro il sesto aspettavo risposta per lunedì ma si vede che hanno fatto il ponte dell'immacolata e quindi ormai mi auguro che sta belin di risposta mi arrivi domani che è zoggia perché a Genova io passo dal napoletano al siciliano al genovese al romano a seconda di come mi gira quando comincio a parlare bergamasco ho fatto la collezione completa e a Genova giovedì si dice zoggia ciao ciao